Domenica alle 22.30 a Mixer Siamo andati in esclusiva sul set del primo spot pubblicitario realizzato in Unione Sovietica dal grande regista sovietico Nikita Mikalkov Nel secondo servizio un ricordo di Salvatore Dalì realizzato con testimonianze e documenti assolutamente inediti Per il faccia faccia le paure, le ansie, le speranze e i progetti di Pippo Baudo E per finire, che cosa è la malinconia? Al microfono di Sandra Monteleoni rispondono Claudio Martelli, Ornella Vanoni, Angelo Rizzoli, Carlo Verdone e Susanna Agnelli Domenica alle 22.30 a Mixer Tra poco andrà in onda TG2 stasera La serata di Rai 2 prosegue con lo spettacolo Arrivano Frank, Liza e Sammy E con TG2 Sport 7 Studio Line Studio Line de L'Oreal Uh oh buh le mille bolle blu cha 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 Shampoo Shampoo Toner Di Studio Line Brividi Blu Sui tuoi capelli Vitalità è un tono nuovo Luce Da carezzare sui tuoi capelli per ogni giorno Ogni tuo giorno Vivo Vivo e frizzante Nuovo Shampoo Toner Di Studio Line Tono e vitalità ai tuoi capelli Cha 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 Adesso Tamoil Una svolta di qualità Ecco un uomo che non si sta solo lavando Non si fa solo la barba Non si mette semplicemente il dopo barba Perché con Basicom Senza cambiare i suoi gesti quotidiani Quest'uomo protegge la sua pelle La ammorbidisce Calma le irritazioni della rasatura Basicom di Vichy In farmacia Gran Marnie Il liquore Scusate Ma quando comincia Conto su di te? Il 3 febbraio è un giorno speciale Alle 20 e 30 su Rai 2 riparte Conto su di te Conto su di te Conta su di noi Conto su di te Conto su di te Dal 3 febbraio alle 20 e 30 su Rai 2 Buonasera Ecco i principali fatti del giorno Da Milano è partito l'allarme rosso Per l'inquinamento atmosferico L'emergenza in parte L'inquinamento atmosferico L'inquinamento atmosferico L'inquinamento atmosferico L'inquinamento atmosferico